Monta la protesta degli assistenti igienico personale a sostegno degli studenti diversamente abili nelle scuole superiori delle province siciliane. Chiedono l'abolizione dell'articolo 10 della finanziaria BIS, che di fatto porterà il licenziamento di circa 1.500 operatori professionali in tutta la regione, di cui circa 50 nella provincia di Grigento. Da 20 anni gli assistenti igienico-sanitari hanno lavorato negli istituti superiori tramite appalto alle cooperative, come sancito dall'apposita legge regionale del novembre del 2004. Dallo scorso mese di maggio invece è cambiato tutto. Recependo una norma nazionale, il governo Crocetta e l'assessore Baccei hanno affidato il compito di assistenza ai disabili ai collaboratori scolastici, per intenderci ai bidelli. Questi verranno formati tramite un corso di 16 ore, che una parte dei collaboratori seguirà nei prossimi giorni e una seconda parte invece seguirà ad ottobre, lasciando quindi a settembre, ad inizio anno scolastico, alcuni alunni diversamente abili senza assistenza. Questo vuol dire che solo ad Agrigento una cinquantina di assistenti formati ad hoc e con 20 anni di esperienza alle spalle perderà il proprio posto di lavoro e il loro compito verrà invece assegnato a chi ha già ben altro a cui pensare. Gli assistenti igienico personale sono quindi in protesta per provare a coinvincere la regione a non far scomparire dagli istituti superiori questa importante figura professionale. Hanno già manifestato a fianco del sindacato Cobas, ma anche autonomamente, come riferisce alla nostra redazione Giannico Trombetta, operatore igienico sanitario del Palermitano che si è rivolto alla nostra redazione per coinvolgere nelle prossime proteste anche i colleghi che fino allo scorso anno scolastico hanno operato nelle superiori della provincia di Agrigento. Per riunire tutta la categoria, Trombetta ha anche messo su una pagina Facebook. Una delegazione di assistenti igienico personale è già riuscita ad incontrare i vertici della regione, ma il tempo passa e settembre si avvicina. Si attende la convocazione di un tavolo tecnico per discutere la questione e venire incontro ai lavoratori. Intanto è previsto per martedì prossimo 5 luglio un sit-in di protesta a Piazza Indipendenza a Palermo davanti alla presidenza della regione siciliana.